In molti lo speravano e Oda infatti non ha deluso le aspettative, si continua a vedere lo scontro iniziato nello scorso capitolo ad Acinosu. Ragazzi, questo capitolo è incitato completamente su alcuni membri della marina, su quello che sta succedendo sull'isola dei pirati, non vedo l'ora di parlarne. Alcuni di voi probabilmente sono un po' frastornati dal fatto che è giovedì, non è venerdì, ma ehi, abbiamo messo questa regola nel canale. Se il capitolo esce il mercoledì, il video si fa il giovedì, se invece esce il giovedì, come succede di solito, il video esce il venerdì. Quindi, è uscito il mercoledì, il videocommento arriva prima. Oggi ragazzi, parliamo di questo capitolo che riguarda in particolare in realtà un personaggio specifico, non vedo l'ora di parlarne, di fare tutte le vostre teorie del caso anche nelle prossime settimane. Prima di cominciare vi ricordo due cose. Intanto, al raggiungimento di 1000 like entro 24 ore, come sapete, domani uscirà il video speciale dedicato ai vostri commenti. Difatti, sulla nostra pagina Instagram sarà uscito un post in cui vi chiedo le vostre opinioni sul capitolo. Il video di domani, che è il video speciale che appunto si sblocca dopo i 1000 like, sarà dedicato proprio a quel post e ai vostri commenti. Seconda cosa, vi ricordo che domani alle ore 16, come ogni venerdì, andrei in onda alla Mera Mera Arena, una live aperta dove potrete partecipare anche voi, dedicata principalmente a questo capitolo, ok? Quindi, mi raccomando, se volete partecipare alla Mera Mera Arena, ci vediamo domani alle 16 e io direi che possiamo cominciare a parlare di questo capitolo. Allora, il capitolo comincia esattamente dove ci eravamo fermati la scorsa volta. Vediamo ancora, infatti, questa esplosione di Aki generata dal pugno di Garp. Garp atterra e vediamo che anche la nave, ok, che aveva preso il volo, la sua nave, sta per atterrare nella piazza e viene fermata grazie ai poteri dell'argilla di Prince Grass. Di fatti, diciamo che crea una specie di cuscinetto d'argilla per attutire, diciamo così, la caduta della nave. Così, tutti i membri della Sword sono arrivati finalmente ad Acinosu. Garp è atterrato e di fronte a sé ha una schiera di pirati svenuti e definitivamente sconfitti. Alcuni di loro, in realtà, sono ancora in piedi, anche se tutti doloranti che imprecano contro Garp. E Garp dice una cosa incredibile, dice, questa è veramente una cosa frustrante perché ho proprio perso il mio tocco. Cosa che fa imbestialire i pirati della serie. E questo non è abbastanza quello che hai fatto, quindi immaginatevi Garp nel suo Prime che cos'era. Finalmente, comunque, tutti i membri della Sword riescono a rivedere anche Kobe, che appunto è lì nella piazza con la sua palla al piede in mano. E intanto gli altri membri della Sword commentano il legame che c'è tra Kobe e Garp. Garp dicono che è un legame molto carino e in più Kobe fa anche un commento dicendo che stranamente anche dei non membri della Sword sono venuti a liberarlo. Non sappiamo a chi si riferisca in realtà perché tutti i membri che abbiamo visto fino a questo momento sono confermati dalla Sword tranne Garp, che non è confermato ma io lo do quasi per scontato. E probabilmente si riferisce a qualche altro Marine che si vede nel capitolo perché appunto in questa pagina qui, mentre lo dice, c'è anche un altro Marine alle spalle di Prince Grass che non sappiamo chi sia, quindi magari è un Marine generico, diciamo così. Mentre comunque Kobe si sta per ricongiungere con i suoi compagni, Ibari, membro della Sword, viene congelata. Piazza congelata ragazzi, difatti compare nella piazza Aokiji o Kusan, come volete chiamarlo voi. Anche nello stesso capitolo gli stessi pirati di Barba Nera lo chiamano in tutti e due i modi, quindi io lo chiamerò in tutti e due i modi come mi pare, ok? I Marines dicono a Kusan di liberare Ibari e Aokiji risponderà che è brutto se il capitano è via, far uscire, far scappare un prigioniero così importante. E qui ragazzi parte un flashback super super interessante. Questo flashback è ambientato due anni fa e questo flashback è ambientato circa un anno dopo il combattimento tra Aokiji e Akainu. Tra l'altro un po' strana come datazione perché in realtà due anni, cioè noi sappiamo che c'è stato il timeskip di due anni, però allo stesso tempo questo scontro è avvenuto all'inizio di questo timeskip, quindi possiamo dire che è passato un annetto quasi, quasi un annetto da quando i Mugiwara sono ripartiti dall'Archipelago Sabaudi, non si sa, comunque questa è la datazione che ci viene data. E vediamo che in quest'isola ci sono vari pirati di Barba Nera, tutti congelati. Di fatti Teach stesso, che è l'unico a non essere congelato, entrerà in un bar dicendo che c'è solo una persona nel mondo che può aver fatto una cosa del genere. E infatti è proprio Kusan, che ha appena combattuto contro Akainu evidentemente. Dice che ha il cuore spezzato e che dice a Teach che lui sa come sono i suoi compagni di Churma, quindi gli chiede secondo te chi è che ha iniziato questo combattimento. Quindi Kusan sembra molto arrabbiato, però alla fine nella vignetta successiva vediamo che in realtà Teach, Kusan e gli altri pirati di Barba Nera, che ora sono scongelati, se la ridono insieme. Stanno bevendo, stanno mangiando tutti insieme, vediamo veramente tutti i membri della Churma di Barba Nera. E Teach ci sta chiedendo come è andato il combattimento contro Akainu. Akainu, tanto che Kusan racconterà anche un dialogo che c'è stato durante lo scontro. Difatti dirà che Akainu ha una certa detta, se ripensa al fatto che ci siamo arruolati insieme e ora siamo costretti a ucciderci a vicenda, mi fa ribollire il sangue. E Okiji gli avrebbe risposto se forse questo è il magma, cosa che ovviamente fa ridere tutti i pirati di Barba Nera presenti. In più fa vedere i pirati di Barba Nera che purtroppo durante lo scontro Okiji ha perso una gamba e difatti quella che ha in questo momento è semplicemente creata col ghiaccio. Gli chiederanno anche se lui per caso ha tolto un braccio da Akainu. Okiji risponde di no, ma probabilmente Akainu è comunque frastornato dallo scontro anche lui. Questa cosa è interessante della gamba, forse alcuni di voi lo sappiamo già, perché non era canonica. Cioè, Kusan aveva questa protesi di ghiaccio in un film, però in realtà nel manga non si è mai vista questa cosa. Almeno se non ricordo male, poi fatemi sapere in un commento se vi ricordate, se si è visto in qualche scena. A un certo punto, Caterina Devon tirerà fuori un argomento incredibilmente interessante. Dirà che a quanto pare Kusan ha qualche informazione sull'uomo col marchio del fuoco, o col segno del fuoco, non abbiamo parlato tanto di questa traduzione. E Kusan è un po' scioccato a sentire questa cosa. Difatti sappiamo che i pirati di Barba Nera conoscono i Rod Ponegriff, erano già interessati ai Rod Ponegriff due anni fa. E Barba Nera spiega che uno c'è la Big Mom, uno c'è la Kaido, e gli altri due non sa dove siano. Uno di questi comunque è quello di Zou. Però sa che uno di questi due Ponegriff sono sciuti, è nelle mani di un uomo marchiato col segno del fuoco. Ok? Marchiato col fuoco. Mettiamola così. La feat che compare in questo capitolo, protagonista anche nel video di ieri, dirà che le uniche informazioni che hanno è che quest'uomo viaggia su una nave nera e chiunque si avvicini finirà inghiottito da un mulinello. Quindi probabilmente questa è opera di un frutto del diavolo. Ok, questa cosa è molto interessante, infatti vorrei aprire una parentesi per poi continuare. Io ero sempre stato certo, diciamo così, che quest'uomo con la marchia del fuoco fosse stato proprio Sauro. Ok? O Soul. E c'è, l'ho sempre pensato, perché in realtà noi da quello che sapevamo, cioè Kid, da quando ha avuto i Rod Ponegriff ha detto ora dobbiamo andare a cercare quest'uomo con la marchia del fuoco. Ok? Qualche capitolo dopo, una decina di capitoli dopo, scopriamo che Sauro è ancora vivo, che è in incognito, che ha queste bende e che sa leggere i Ponegriff. Quindi molti hanno collegato l'uomo con la marchia del fuoco con Sauro, che comunque ha tutte queste bende, è ferito, quindi probabilmente è marchiato. Ok? Però, gira in una nave nera e fa dei mullinelli che distruggono le pa... Cioè, questa cosa qui ovviamente cambia tutto, perché stiamo parlando di un pirata. Cioè, potrebbe anche essere un personaggio nuovo. Ma adesso dobbiamo mettere un personaggio nuovo? Quello che vi posso dire è che questo Rod Ponegriff che è perso apparteneva in passato a Barba Bianca. E per qualche motivo non c'è più sull'isola degli uomini pesce, è stato spostato dopo che Barba Bianca non proteggeva più l'isola. Quindi, quest'uomo qui, secondo me, deve avere qualche connessione con Barba Bianca. Ovviamente, come alcuni di voi hanno detto nel gruppo Telegram, io leggo i messaggi del gruppo Telegram a volte, e effettivamente è un ragionamento che ci sta, Dragon potrebbe essere benissimo quest'uomo marchiato delle fiamme. Perché comunque, mi avete fatto notare, la nave dei rivoluzionari è abbastanza scura, non è esattamente nera. Dragon ha questo potere legato al vento, probabilmente, e quindi probabilmente può anche generare dei mulinelli. Benissimo, quindi ci può stare. Però è un po' difficile. Io vi dico solo questo. Lunedì, video dedicato completamente a questo argomento, così lo svisceriamo per bene lì, per non parlare di quest'uomo per dieci minuti. Shiryu, tra l'altro, dice una cosa interessante. Dice che lui scommette che questo Poneglyph è nelle mani del governo, ci scommette proprio, e dice che ci potrebbe stare, dato che comunque sarebbe una mossa intelligente da parte del governo mondiale tenere per sé una delle quattro pietre rosse, proprio per evitare che qualche pirata arrivi veramente al One Piece. E Cusan in realtà dirà di non avere più tante informazioni, e anzi, Cusan dirà di avere solo dei brutti ricordi legati ai Poneglyph, e dirà che si ricorda di un suo amico che si è messo contro il governo mondiale proprio per questi Poneglyph, e probabilmente si sta rifiando proprio a Sauro. Poi racconta anche degli occhi disperati di una bambina, e mentre racconta questa triste storia, Lafitte sussurra qualcosa nel grecchio di Barbanera, e gli dice, perché non lo uccidiamo? E non gli prendiamo questo potere? Potrebbe essere molto utile per uno di noi. E Cusan in realtà gli sente e congela di nuovo tutti i membri dei pirati di Barbanera, tranne il Capitano, che in realtà lo ferma e dice, no, io non avevo intenzione di fare una cosa del genere, è il mio compagno che è stupido, lascialo perdere. E anzi gli chiede, che ne dici di unirti alla mia ciurma? Tanto sei disoccupato, no? Cusan comunque dirà che lui ha un altro concetto di giustizia, cosa che effettivamente mi ha sempre fatto storcere il naso quando pensavo a Cusan come membro dei pirati di Barbanera, ma ti ci dirà, noi non è che siamo cattivi, semplicemente noi facciamo profitto secondo le nostre regole, ed è questo che per il mondo ci rende dei pirati. E tu ora sei libero, quindi che cosa vuoi fare? E Cusan evidentemente l'ha accettato, perché torniamo nel presente in cui Cusan non solo è un membro ufficiale dei pirati di Barbanera, ma combatte contro Garp. Tra l'altro abbiamo anche un piccolo riquadro che ci mostra che Cusan è il decimo comandante di flotta, ok? Tutte le teorie che abbiamo fatto sono morte, perché in realtà evidentemente il decimo comandante era proprio Cusan. In realtà, una cosa che molti di voi hanno fatto notare su Telegram, che ho letto su internet, che è vera, quando Cusan sembra unirsi alla ciurma, cioè quando lo sentiamo che chiama Barbanera a Dressrosa, sembra che non sia ancora dentro la ciurma. Evidentemente, ok? Evidentemente, fino a Dressrosa era dentro la ciurma di Barbanera, ma in modo abbastanza distaccato, ok? Nel senso, anche nel momento in cui ha incontrato Smoker a Punk Hazard, per dire, ok? Magari Cusan aveva già dei legami con Barbanera, ma ancora non era diventato ufficialmente un membro dei pirati. È diventato ufficialmente un capitano decimo comandante, diciamo così, proprio da Dressrosa in poi. Questa è l'idea che mi sono fatto, poi fatemi sapere nei commenti che idee siete fatti voi. Comunque vediamo anche un piccolo scontro tra Cusan e Garp. Cusan inizialmente congelera Garp, dicendo che è curioso di vedere se Garp sarà disposto a sacrificare il suo miglior pupillo per quello nuovo. E ovviamente Garp non sta più di tanto tempo congelato e tirerà un pugno fortissimo a Okiji, un'altra mossa chiamata Blue Hole, che prende in faccia appunto l'ex ammiraglio, creando anche un buco nel terreno. E ora direi di passare allo sponsor di oggi, che come sapete ragazzi è Redok, sapete che questo store aiuta tantissimo il canale. Come al solito vi presento sempre qualcosina di nuovo, in realtà una cosa che ho presentato anche ieri, sono ragazzi questi Funko Pop qui che sono tornati a grandissima richiesta, perché sono andati letteralmente a ruba nelle scorse settimane. Quindi ragazzi se sono tornati trovate il link in descrizione, vi ricordo 10% di sconto se utilizzate il codice sconto YouTube. Sconto che si può utilizzare una volta al mese, quindi se già l'avete utilizzato ma volete fare un altro acquisto, potete anche farlo. Detto questo ragazzi, direi di concludere questo breve sponsor del venerdì, perché adesso passiamo alla situazione Low. Allora, finalmente viene nominata anche l'isola in cui è avvenuto questo scontro, che si chiama Winner Island, si trova nel nuovo mondo e probabilmente anche vicina ad Acinosu. Vediamo che Teach è molto stanco, vediamo un'esplosione, vediamo anche il cappello di Low per terra. In più ci viene detto, è anche fatto vedere, che il Polar Tang, il sottomarino dei pirati di Low, è distrutto e sta affondando. Vediamo che sia Low che Beppo sono a terra sconfitti. E anche Low sembra privo di sensi, Beppo no, ma ne parliamo tra poco. Tra l'altro Barbanera dirà che tutti i possessori dei 100 cuori che Low aveva rubato a Rockyport sono ancora ad Acinosu e probabilmente saranno impazienti di vederlo. Sapete che Low aveva rubato 100 cuori di pirati da consegnare al governo mondiale prima di diventare un membro della frutta dei 7? Bene, evidentemente questi pirati qui si trovano ancora lì, si trovano ancora ad Acinosu. Comunque Beppo è a terra, ma sta ripensando a qualcosa, sta pensando a delle cose che ha detto Chopper. Ha detto, cioè Chopper si vede proprio questo mini flashback, non è un mini flashback, bisogna vedere che Chopper in passato gli aveva detto, guarda, ho fatto queste cose, ma non sono sicuro che funzionino, ok? Barbanera poi tra l'altro si chiede, cosa dovrei fare con l'opeope? Dovrei venderlo o dovrei... o dovrei far sì di diventare immortale? Chi lo sa, sta pensando, e qua si alza Beppo dicendo, tieni le zampe, via dal mio capitano. Vediamo che Beppo si è trasformato trasformato nella sua forma Sulong, che tra l'altro è una forma Sulong fighissima, è una delle più fighe, perché comunque Beppo è un orso polare, poi è caglino e coccoloso, ma cacchio, è un orso polare, infatti sta forma è gigantesca. Cosa che, oh, sciocca tutti i pirati di Barbanera, lo stesso Tic che viene colpito e ferito, Barbanera è scioccato, vedete questo Sulong enorme, e dicono, ma com'è possibile? Non c'è neanche la luna, infatti il giorno, e poi l'avrebbe potuto fare prima, evidentemente questa cosa, oh, non ci viene detta, ma credo che possiamo intuirlo tutti insieme, la cosa di cui parlava Chopper poco fa, saranno delle medicine che permettono ai minks di trasformarsi in questa forma Sulong, evidentemente Beppo non voleva rischiare questa medicina, questo azzardo prima. Vediamo quindi che Beppo prenderà il suo capitano, che gli dice qualcosa, dice, torna indietro, non farlo, non abbandonare i nostri compagni di ciurma, ma Beppo gli dirà, capitano, noi siamo partiti dai porti freddi del Nord, fino ad arrivare a questo momento, e fino ad adesso, i nostri compagni non ci hanno mai delusi, quindi in un modo o nell'altro se la caveranno, però non possiamo far finire la nostra avventura così, e quindi il capitolo si concluderà con Beppo, che ha preso Low, e sta nuotando via, nuotando via non si sa, per quale meta probabilmente non lo sa neanche Beppo, e il narratore ci conferma che i Pirati Hearts, guidati da Trafalgar Low, hanno avuto una sonora sconfitta, e il capitolo si conclude qui. Mamma mia ragazzi. Capitolone, capitolone. Allora, parliamo magari di quello che potremmo vedere nel prossimo, quindi nel 1982. Nel 1982 a sto punto, o abbiamo un capitolo dedicato completamente allo scontro tra Cusan e Garp, oppure torneremo ad Egghead, perché ormai ci stiamo dimenticando che a Egghead c'è tutta quella questione, vabbè c'è da continuare la storia principale, di base. Sono sicuro che il video sia venuto un po' più lungo del solito, ma oh, sto capitolo ci ha fatto parlare tanto, io vi ricordo lunedì avremo anche questo video approfondimento sull'uomo marchito dalle fiamme, vi dirò un po' di idee che mi verranno in mente l'weekend, se volete aiutarmi ovviamente commentate con le vostre idee, e io vi ricordo che ci vediamo domani per il video speciale raggiungimento di 1000 like. Vi dico anche che settimana prossima teoricamente non c'è il capitolo, però probabilmente i spoiler arriveranno prima, e può essere anche che il capitolo uscirà lo stesso nonostante la pausa, perché non è una pausa di Oda, è una pausa del magazine, e a volte succede questa cosa. Se dovesse uscire la prossima settimana però, poi avremmo due settimane di fila di pausa, che è una cosa assurda, però ragazzi purtroppo in questo periodo ci sono tante pause, ce la dobbiamo vivere così. Comunque, grazie mille ragazzi per aver visto questo video, io sono Marra, questo è Mera Mera, noi ci vediamo prossimamente con altri contenuti a tema One Piece, mi raccomando mettete like, iscrivetevi, e aiutate questo canale a crescere ancora di più. Noi ci vediamo prestissimo ragazzi, vi ricordo il link per Redhawk in descrizione, per acquistare i fancob, per acquistare anche i poster, quello che volete, e noi ragazzi, ci vediamo, ciao a tutti.